Gentili telespettatori, buona giornata. Che cos'è Imvanex? È il vaccino contro il vaiolo delle scimmie. La Gran Bretagna ha ordinato migliaia di tosi di Imvanex, l'unico vaccino attualmente disponibile contro il vaiolo delle scimmie. Ecco come funziona e perché non c'è alcun pericolo legato alla malattia. Anche se non c'è alcun pericolo imminente, il Regno Unito preferisce cautelarsi acquistando circa 20.000 dosi del vaccino contro il vaiolo delle scimmie. Imvanex, prodotto dall'azienda biotecnologica danese Bavaria Nordic, unico produttore di un vaccino approvato contro la malattia che possono procurare questi animali. Molti paesi ci hanno contattato per acquistare vaccino, ha affermato a Rutter il funzionario bavarese delle relazioni con gli investitori nordici Rolf Sornstein. L'ente danese ha spiegato che non è rivolto a tutti e non bisogna farlo preventivamente, ma è consigliato a chi ha avuto contatti stretti identificati di persone con diagnosi di monkeypox, cioè il vaiolo delle scimmie, per ridurre il rischio di infezioni sintomatiche e malattie gravi. Attualmente questo vaccino è approvato sia negli Stati Uniti che in Canada dove viene prodotto sia contro il vaiolo umano che quello preso dalle scimmie. L'Unione Europea ha deciso di acquistarli per metterli a disposizione degli Stati membri e contribuire così ad affrontare la gestione dei casi di vaiolo delle scimmie apparsi in diversi paesi. Quindi la Gran Bretagna li compra per utilizzo proprio, per tenerli lì, mentre l'Unione Europea li compra anche lei per tenerli a disposizione degli Stati membri. Come scrive l'EMA, Agenzia Europea del Farmaco, come tutti i vaccini si somministra per via cutanea tramite iniezione e sono previste due dosi a distanza di 28 giorni, la prima dalla seconda. L'EMA spiega che questo vaccino Invanex riesce a produrre anticorpi tali da fermare la malattia qualora si presentasse. Gli studi hanno visto partecipare più di 2000 persone dove erano inserite persone con altre patologie. Insieme a questo gruppo, come ricorda il messaggero, c'erano anche persone vaccinate anni prima contro il vaiolo. I risultati hanno dimostrato che questo vaccino riesce ad avere la stessa efficacia di quello del passato, quello che è stato somministrato fino al 1981, poi è stato dichiarato il vaiolo umano, debellato. Non si conosce ancora invece la durata protettiva. Come ogni vaccino gli effetti collaterali sono i soliti. Leggera febbre, dolore sul punto di inoculazione, arrossamento prurito. Anche in questo caso questi blandi effetti riguardano mediamente un paziente su 10. La stessa azienda Bavarian Nordic ha ribadito alla Router che non c'è la necessità di espandere la capacità di produzione perché non esiste in questo momento un reale pericolo né per il Regno Unito e neanche per il resto del mondo. Tuttavia sono a disposizione per aiutare i paesi in cui c'è qualche focolaio attivo e poi cerchiamo anche di aiutare i paesi che vogliono accumulare delle scorte. La società danese ha inoltre dichiarato di aver stipulato un contratto con un paese europeo che ha deciso di rimanere anonimo per la fornitura del vaccino in relazione a nuovi casi di vaiolo delle scimmie. Che questo paese non sia proprio il bel paese, non quello dei formaggini il bel paese galbani, ma che sia proprio il bel paese l'Italia che abbia zitto zitto, muto muto, fatto un contrattino. Tanto abbiamo visto che il generale figliuolo aveva ordinato quante dosi aveva ordinato in più che ci siamo ritrovati, quanti milioni di vaccino che poi scadeva in scadenza da buttare. Allora l'hanno velocemente donato per non poi trovarsi nella situazione di avere un... come si dice... mi manca la parola. mi manca la parola. Mi manca la parola quando fanno quelle revisioni dei conti, come dire qui, cioè c'è mai ordinato delle dosi che stanno da buttare, tutti sti soldi, allora fanno la donazione strategica, no, io le ho donate, quindi siamo rimasti a zero perché una parte erano per donarle perché noi siamo tanto buoni. Ecco, è così, si è salvato da questa revisione dei conti il governo figliuolo e tutti quelli che hanno comprato a sproposito vaccino, tanto chi se ne frega paga il contribuente italiano con le tasse. Quindi chissà se sia proprio questo altro paese europeo che vuole rimanere anonimo ad aver fatto un contrattino così poi di questo vaiolo delle scimmie, tra un dieci giorni non ne parlerà più nessuno, credo, e noi ci troveremo magari col contrattino con chissà quante migliaia o milioni di dosi comprate, messe lì, che ovviamente poi avranno anche una loro scadenza, non è che puoi tenerle per tutta la vita. Va bene, poi ci sono altre notizie su questo vaiolo delle scimmie, proprio in Italia vogliono fare quarantene, vogliono dare il vaccino a chi... Adesso ve lo racconterò nei prossimi video, pertanto voi tornate sul canale fra una ventina di minuti che ci sarà già un altro video su questo vaiolo delle scimmie, dove vi racconterò in Italia che cosa stanno pensando al Ministero della Salute, retto da Roberto Speranza, ecco, il Ministro della Speranza, no, il Ministro della Salute, Roberto Speranza, io qualche volta l'ho chiamato il Ministro della Speranza simpaticamente, si sarà mica offeso, sai, queste persone così potenti e influenti, quindi, ecco, vi racconterò anche di Salvini dove vuole andare, non avete sentito dove vuole andare Salvini? Ve lo racconterò in un altro video. Grazie a tutti, ci vediamo tra poco, vi ricordo che c'è anche Teleitalia Seconda Rete dove ci sono video di politica, di notizie, di fai da te, poi questi video vengono condivisi dopo qualche ora nella pagina di Facebook che si chiama Teleitalia, finché Facebook mi permette di condividerli perché stanno facendo di tutto per farmi desistere, poi un giorno vi farò un bel video anche su questi simpaticoni di Facebook che veramente sono una cosa. Vabbè, grazie a tutti, ci vediamo presto, arrivederci.